Ho sentito queste grida, aiuto, 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 ma al momento mi sveglio di colpo e non è che... Dopo si ripetevano, aiuto, aiuto, al momento ho pensato una ragazza da sola, non so che ora era, era notte, ho detto, mi è venuto così, ho detto magari una, qualcuna che, qualcuno sta cercando di fare la violenza, non so, qualcosa, poi a un certo punto è caduto sul lago, è caduto sul lago, sta morendo, sta morendo, io ho tirato sulle tapparelle, ho visto questa ragazza, ma al momento anche io mi sveglio così, ma come, chissà, morendo nel sul lago? Sì, sì, siamo caduti, venga, 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 a quel momento lui che cosa ha preso il telefono, ho fatto, non so neanche cosa ho fatto, 112, 113, non so neanche, e nel stesso tempo mi mettevo sulle scarpe, dopo ho avvisato, guardi che qui c'è una ragazza che mi chiede aiuto, adesso scendo, vado giù. Non ho fatto il giro per la strada, sono andato da sotto, che c'era, è tutto buio, la strada non era illuminata, era tutto buio, e ho visto questa ragazza che era disperata, era proprio, guardi, se penso alle parole che, bom, e nel momento sono andato là, ma cosa potevo fare io? E dopo la ragazza si è buttata dentro di nuovo, io gli sono andato dietro, che io, faccia qualcosa, faccia qualcosa, cosa potevo fare? E la macchina era capovolta, non si vedeva niente, era tutto nero, ho provato a tastoni, sentire le portiere, ma erano chiuse. Dopo in lontananza ho sentito queste sirene, ho detto, l'acqua era ghiacciata, ma sono entrato nel momento, era ghiacciata, poi non sentivo più niente. Sentivo più niente, a saperlo, magari se mi portavo un martello, ma chi va a quei secondi là? Cosa fa uno? Uno dei due poliziotti si è buttato dentro con me, e gli ho detto, hai per spaccare l'unotola, ma erano passati i minuti, già da quando che lei è arrivata lì, perché non so quanto tempo la ragazza è stata a urlare, magari dall'altra parte, non lo so, e dopo è venuta su qua, erano già passati i minuti, io non so se le strade devono essere illuminate, per me sì, punto e basta, magari le luci si spengono in altri momenti, con questo non voglio dire che è responsabilità, però tutto un insieme, non lo so. Non ha esitato, si è buttato. Cosa devo fare? Mi sono buttato questa ragazza, questa ragazza che ha fatto l'impossibile e l'impossibile si è ributtata dentro, nonostante tutto il freddo che era tutta, si è ributtata dentro. Io adesso non voglio neanche pensare alle due famiglie. Molto provato. Quando sei là impotenti, cosa si fa quando sei impotenti di fronte a... Io mi giravo, c'era solo questa ragazza che mi diceva fa qualcosa, fa qualcosa. Però lei ha fatto tanto. Non so, io sono qua ancora che penso, forse se prendevo il martello andavo giù subito senza telefonare, ma non so quanto sono stato dentro, non so, ma l'impotenza di fronte a certe cose... dove è in? Grazie a tutti.